Ciao a tutti, il narcisista maligno. In questo video voglio parlarti del narcisista maligno e delle caratteristiche del narcisista maligno. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo, inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale, l'abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Adesso veniamo al tema del narcisista maligno. Allora, il narcisista maligno è, diciamo, tra i vari tipi di narcisisti è uno, come dire, poco raccomandabile perché oltre a manipolarti ti vuole distruggere fondamentalmente. Il narcisismo, il narcisista è già distruttivo di per sé, ma il narcisista maligno lo è ancora di più, quindi il narcisista maligno è veramente fortemente distruttivo. Quindi se lo conosci lo eviti, se lo eviti non ti uccide, tra virgolette. Quali sono le caratteristiche del narcisista maligno? Ma intanto la prima caratteristica è che non ha una coscienza, cioè non ha una coscienza morale, non ha nessuna, diciamo, nessuno scrupolo di coscienza. E quindi privo totalmente di questa parte che chiamiamo coscienza, che è un po' il nostro, il superio, il codici etico, i codici morali. Ecco, il narcisista maligno non ha codice etico, non ha codice morale. Poi è un asociale, un sociopatico, diciamo, quindi non è interessato a creare legami, se non legami distruttivi e dolorosi per distruggere le persone. Vede, diciamo, terza caratteristica, vede il mondo bianco e nero, o positivo o negativo. Lui appartiene sempre alla parte positiva, gli altri appartengono sempre alla parte negativa. Cioè lui si percepisce come sempre dalla parte della ragione e gli altri sempre dalla parte del torto. Quarta caratteristica è totalmente egocentrico, egocentrico all'ennesima potenza. È totalmente centrato su se stesso, è egoista e non gli frega niente di danneggiare le altre persone. Anzi, ne prova un piacere. È emotivamente instabile, quindi non ha una stabilità emotiva. Cambia opinione, cambia idea, insomma, manipola anche dal punto di vista delle emozioni. Sesto è, sesta caratteristica, è molto offensivo. Diciamo, tende ad avere, ad umiliare, ad offendere, a ferire le persone. Questa è una caratteristica anche che lo contraddistingue dal narcisista normale, che invece potrebbe essere più soft come approccio. Settima caratteristica è sadico. Gode nel arrecare sofferenza alle altre persone. Quindi questa è un'altra caratteristica da tenere presente. Ottava caratteristica, non si assume mai la responsabilità delle proprie azioni. È totalmente eterattributiva, attribuisce sempre agli altri la colpa, diciamo, di qualunque cosa accada. Lui non ha mai responsabilità. Tutti gli altri sono colpevoli, eccetto lui. Nonna caratteristica, può essere anche violento. Quindi ha anche, diciamo, un iper, come dire, talvolta utilizza anche proprio la violenza, talvolta anche fisica, ma comunque la violenza verbale. Quindi non si pone minimamente degli scrupoli, diciamo. E vive una sessualità malsana, cioè usa la sessualità per, non per un, neanche per un piacere, ma per condizionare le altre persone, se riesce. Ecco, quindi queste sono un po' le caratteristiche del narcisista maligno. Ha un forte bisogno, diciamo, di dominare gli altri, ma senza una motivazione particolare, se non quella di soddisfare il proprio narcisismo. Bene, quindi se lo eviti, se lo conosci, lo eviti, se lo eviti, non ti uccide, diciamo così. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base per lezioni mirate, abbonamenti base per partecipare alle live, e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari che faccio mensilmente. Ciao a tutti!